Ok ragazzi, dunque pare che oggi sia disponibile finalmente, finalmente, episodio Shadow sul PSN Visto che molti di voi me l'avevano chiesto in questi giorni A quanto pare Siga nel suo account twitter aveva notato che ci fossero questi problemi tre giorni fa, giorno 7 E dopo tre giorni, che sono tanti, sono riusciti a fixare questo problema Quindi, per riscattare episodio Shadow, in teoria, basterebbe scendere come sto facendo io Perché il problema riguardava soltanto le edizioni sul disco Quindi, da questa schermata qui, prendete la freccia in giù E poi scendete giù, 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 fino al PS Store E poi, da questo punto, prendete la freccia a destra Facete X Vedete 10 e 11, è stato rilasciato oggi E questo per i possessori della edizione sul disco Perché chi l'ha comprato in digitale, a quanto pare, aveva già accesso Ad episodio Shadow E quindi, sì Una volta fatta questa procedura dovreste avere il download avviato, insomma Ok, fatemi sapere se volete vedere il gameplay sul canale Alla fine, per quanto ho potuto vedere, è molto breve Quindi, potrei pubblicarlo in contemporanea Io intanto vi lascio alla normale programmazione Con il proseguimento di Reforces E ci vediamo alla prossima